Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video del Gobbo Toscano in compagnia di Kino Osci, ciao Kino come va? Ciao a tutti, bene bene, con calma, con relax, con sta sosta ma bene. Sì mamma mia, sembra non finire mai, è appena cominciata ma sembra già un mese di stop, perché poi quando non c'è da giocare, ahimè qualcosa deve venire fuori, infatti io mi aspetto nei prossimi giorni che la gioca alla nazionale possa uscire qualcosa riguardo alla Juventus perché non passa sosta, diciamo che una notizia negativa è già arrivata, quella non è una chiacchiera sopra una notizia negativa riguardo all'infortunio di Copp Miners, che si aggiunge alla lista di infortunati. Io, ecco ti faccio questa domanda, ho sentito in tanti raccontare di, eh, Juventini eh, ti parlo di Juventini sul mondo social, X in particolare, sai benissimo che ambienti sono, e ho già cominciato a leggere, colpa della preparazione. Ah beh, costo le incrinate, dubito però. Che poi Copp Miners non ha fatto la preparazione, cioè non l'ha fatto la Juve, non l'ha proprio fatta, perché quando la doveva fare ha mandato i certificati con l'Atalanta, quindi lui fondamentalmente ne ha fatta poca di preparazione. No, vabbè, ha fatto luglio, ha fatto fino a metà agosto, perché infatti Copp Miners aveva fatto anche le prime amichevoli dell'Atalanta. Con l'Atalanta. Eh, vabbè, a ridosso della Supercoppa poi è successo quello che è successo, però sì, non ha fatto una preparazione completa, che sicuramente può incidere, ma non può incidere su una costola che ti si incrina dopo un contrasto. No, assolutamente no, assolutamente no, concordi con me, quindi, che si va delle volte troppo a esagerare, no? A determinate situazioni, anche semplicemente per partito preso. Ma prima di entrare in merito al discorso calcio-mercato, voglio proprio fare un discorso con te sulla questione infortunati, no? Abbiamo indisponibili per la prossima partita contro Lazio Copp Miners, sicuro, Nico Gonzalez, c'è da valutare UEA, parlo di esterni e attaccanti, così, quindi abbiamo, ci manca il trequartista e ci manca, fondamentalmente, probabilmente un esterno titolare, in caso che UEA non sia ancora a disposizione. Ecco, te chi vedi in quei due ruoli? Quindi trequartista e esterno di destra. Esterno di destra, posto che UEA dovrebbe recuperare. Ok, speriamo, dai. Vabbè, è cambiaso, perché alla fine è l'uomo che lì ha effettivamente giocato, aveva giocato contro il Como, mi pare, per quasi un tempo. Anche a Verone era stato riproposto come ala e vedendo anche quelli che sono gli altri interpreti della Rosa, mi sento di dire lui. Poi è vero che si sta parlando anche della possibilità di tirar su come Nencia dall'Under 23. È vero che Tiago Motta ha nelle corde anche l'andare ad inserire il giocatore a sorpresa, che potrebbe potenzialmente essere lui. Però vedendo che un Juve Lazio, dove tu in un qualche modo, visti gli ultimi pareggi, hai anche la necessità di fare dei punti e quantomeno di schierare la miglior formazione possibile, io mi immagino un cambiaso a destra, come ala, e un cabal che torna a fare il terzino, che comunque non aveva fatto male quando era stato impiegato. E con la stessa identica logica probabilmente anche Ildiz trequartista, perché è lì che l'abbiamo visto contro il Como e contro il Verona. Poi ci può stare dire mi tengo Ildiz a sinistra e magari sulla trequarti metto o un Fagioli, o un Douglas Luiz, o un Weston McKennie. Però quello è, ecco, e gli uomini quelli sono a disposizione. Speriamo, anzi, più che speriamo sono certo, che vedendo che Douglas Luiz è rimasto alla continassa in questa sosta e probabilmente non sono certi del fatto che Koppmeiner se salterà la partita contro la Lazio e forse anche lo Stoccarda, immagino stiano lavorando, stiano testando la fattibilità di inserirlo lì. Certo. E poi a sinistra riproporre un Bangulà, no? In questo caso. Eh beh, se metti Ildiz trequartista, per forza, non hai nessun altro, quindi... Certo, è vero, è vero, è vero, è vero. E ecco, questa situazione, no? La situazione di infortuni, più mettiamo che c'è anche lo squalificato con Seisao che non era da squalificare, oltre hanno anche la beffa, no? La multa, ammettono di aver fatto l'errore e continuano a dargli la squalifica. Va bene, come vogliono loro, ma sono cose che comunque abbiamo visto che possono capitare, no? Un'espulsione in aggiunta a un paio di infortunati. Secondo te è corta numericamente questa cosa? Ah beh, sulle ali ho avuto sfortuna. Sì, perché ne avevamo abbastanza, dai. Ne avevi tre, sono tutti tre infortunati e c'è anche quella dose di sfortuna, anzi, due infortunati e uno squalificato. Per quanto riguarda, ad esempio, la prima punta, Sì, ma è una perplessità che, quantomeno personalmente, avevo anche proprio durante il mercato. Poi è anche pur sempre vero che potenzialmente avresti potuto utilizzare l'INICO, però è infortunato. potresti utilizzare l'Ildiz potenzialmente anche, con evidentemente compiti differenti, ma nel momento in cui non hai nessun altro esterno, si ripropone lo stesso identico problema. avevi la possibilità di giostrare, ma ti è venuta meno, per quanto riguarda le ali e possibili attaccanti adattati. Mentre invece, per quanto riguarda il vero numero 9, diciamo, quello è un piccolo problema. Poi, anche per quanto riguarda il difensore, adesso è ovvio che tu devi sperare che nessuno abbia davvero neanche il minimo raffreddore. Certo. Però, facevi anche fatica ad immaginarti un crociato ad ottobre. Verissimo. Verissimo. E poi di chi, soprattutto, purtroppo? Del miglior difensore, probabilmente, della Serie A, non solo della Juventus. Eh. Toglierei anche il probabilmente, no? In questo momento era una certezza. Gli zero gol subiti, prima del suo infortunio, erano una... No, ma poi sai, comunque, anche Alipsia, per quanto sia, anche difensivamente, sì, certo, è sofferto come avresti sofferto a prescindere, probabilmente, vedendo il pacchetto offensivo che avevano. Comunque, anche contro il Cagliari, se non fosse stato per quel calcio di rigore, commesso tra le altre cose, neanche da un difensore, probabilmente sarebbe stata l'ennesima partita, ecco. Poi, adesso, sicuramente, c'è un banco di prove importante, tra Lazio, Stoccarda, Inter, dove lì, anche a livello difensivo, dovrai far vedere a che punto sei, anche senza Bremer. Perché, purtroppo, ci devi convivere per tutta la stagione. È vero. È vero. Ecco, proprio per quanto riguarda il discorso Bremer, il sostituto di Bremer, se ne è vociferati tanti, no? Si è vociferato addirittura che potessi essere un giovane della next gen, mi pare Pedro Felipe, si chiami, ragazzo? Sì, ma non... Ma, ok, lui, poi, è venuto fuori addirittura, richiameranno Rugani. Io, su quella cosa lì specifica, vi garantisco che ad oggi io mi sono formato proprio con una persona che è molto vicina alla questione e mi ha detto non se ne, non ne ha parlato nessuno, da quello che risulta, e ora si sta vociferando insistentemente in queste ultime ore di un possibile arrivo di Skriniar in prestito perché lui vuole giocare di più. Abbiamo visto, ha fatto solo due partite in Ligan e neanche da titolare. Ci ha giocato pochissimi minuti, ha fatto una settantina di minuti in due partite, 76 mi pare, una roba del genere. Che ne pensi, Kino? Non lo so, cioè nel senso è presto. tanto in questa circostanza almeno si parla di un giocatore che per forza di cose prima di gennaio non puoi prelevare. No. E ancora c'è tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre e per come secondo me almeno sta operando la Juventus non penso che sia il profilo da dire ok mi va bene il prestito di sei mesi che tra le altre cose sarebbe un prestito anche importante da un punto di vista economico perché il giocatore prende tanto però sai comunque mai dire mai alla fine lo stesso Giuntoli ha parlato delle opportunità di mercato ed effettivamente vedendo la situazione che si è creata tra lui e il PSG potenzialmente può diventare un'opportunità di mercato. Ci sono tanti ma tanti se e tanti ma però nel mezzo. Ah beh certo non è un caso che la Juventus secondo me abbia deciso di aspettare appunto gennaio che può essere criticabile come no perché nel frattempo evidentemente sta davvero lavorando per cercare un profilo ideale magari un'opportunità di mercato talentuosa futuribile o comunque un investimento importante che però sai di poterlo fare nel medio lungo periodo e non un prestito di sei mesi e quindi tocca stare a vedere ecco e ci sta che ci sia il totonome soprattutto quando escono situazioni come quella di Skriniar ma se pensiamo che praticamente tre mesi fa a momenti il calciomercato doveva ancora iniziare quello estivo e tra tre mesi inizierà quello invernale è molto presto siamo diciamo in una situazione un po' ancora precoce prematura ma il discorso Skriniar secondo te è un po' in parte tipo il discorso che dici non è secondo te vicino ai piani della Juventus al modo di operare in questo momento della Juventus un po' come era stata la suggestione Sergio Ramos no? Sì con la differenza infatti che Sergio Ramos avresti potuto prendere subito e probabilmente anche a costi inferiori sì molto probabilmente sì di Skriniar sì ecco secondo te il profilo del giovane o del futuribile che può arrivare sarà uno che verrà preso in caso a gennaio o può essere preso già ora perché io di sbincolati non ne di giovani sbincolati non ne conosco in questo momento no è più per gennaio eh beh anche perché se ci sono giovani sbincolati vuol dire a ottobre non so non dovrebbero essere in massimo eh qualcuno potrebbe averci già messo gli occhi sopra e le mani sopra ecco per quanto riguarda invece l'attaccante no? abbiamo detto più volte anche qui da me ne avevamo riparlato nella finestra di calciomercato estivo che l'anno scorso avevamo la metà delle partite più o meno poco più della metà e avevamo un attaccante in più avevamo Moise Ken ne avevamo anche quasi due in più sì perché quest'anno ci manca Ken e Milik che non sappiamo se mai un giorno rientrerà io me lo auguro per lui anche a livello personale ma è un mistero no? un mistero questo Milik quando e se mai dovesse rientrare ecco ad oggi abbiamo solo Vlaovic Vlaovic o Nico Gonzalez adattabile o Hildiz adattabile però come hai detto te poi diventa una coperta corta sulle fasce perché cominci a doverli spostare no? e quindi se c'è un infortunio o due infortuni o una squalifica diventa difficile ecco secondo me è stato un probabilmente non so se definirlo un errore di valutazione ma non credo cioè non credo siano così che diciamo vabbè ma con Milik e Vlaovic riusciamo a fare tutte queste competizioni probabilmente siamo arrivati corti non lo so qualcosa c'è stato che è mancato ma come lo vedi un ora ti faccio un nome che ho letto tra ieri e oggi che può essere un vice Vlaovic un Jovic rimanendo sempre in Serbia che va in scadenza la prossima estate ha un valore più o meno sui 7 milioni non credo sia un ottimo attaccante visto tutto quello che ha fatto da quando è andato via dalla Germania dalla Bundesliga la prima volta perché poi c'è ritornato in prestito da Real Madrid che ne pensi potrebbe essere un profilo secondo te per tamponare a gennaio o la vedi fuori proprio da l'espressione dice tutto adesso va bene tutto ma Jovic è troppo Jovic è troppo ci manca Jovic che ritorni Jovic a giocare perché visto la Juve c'era su Jovic ai tempi della Fiorentina ecco anche no secondo te può arrivare qualcuno a gennaio però per dare un po' di per far rifiatare anche Dusan più che può deve deve ah sì perché anche solo per mettere concorrenza anche solo per far riposare ogni tanto non puoi fare 60 partite con una singola punta obiettivamente non esiste poi chi sia il profilo anche qui non lo so però devi intervenire quanto meno la davanti è probabilmente in difesa che effettivamente come dice Romeo il la davanti può essere anche per assurdo parlando ovviamente per ipotesi un altro esterno che così Nico Gonzalez lo utilizzi solo come numero 9 vero però qualcosa va fatto cioè è obiettivamente troppo troppo corta la coperta la davanti per per non far nulla poi capisco che magari non sia semplice vedendo quella che è stata la sessione di calcio mercato estiva però sei veramente troppo corto ma secondo te come mai la Juventus non ha preso un altro attaccante c'hai un'idea? no magari vedendo che Milik si era fatto male a inizio giugno e inizialmente dicevano 30-40 giorni probabilmente pensavano davvero che fosse questione di relativamente poco tempo poi anche pur sempre è vero dire che non è che ti sei girato i pollici per due mesi no hai fatto 22 operazioni in entrata pardon in uscita 9 in entrata e tu ti rinnovi di lavoro ce n'è stato ed effettivamente come qualcuno anche ha detto per me non era una casualità il fatto che fino all'ultimo avessero provato a prendere anche Sancio sempre per lo stesso discorso appena fatto metti un Sancio ti si libera un posto anche per la davanti vero poi sai ci può stare che a prescindere dal pensiero su Milik si poteva dire beh l'anno scorso noi abbiamo avuti tre quest'anno due non rischiano di essere pochi però sai quella è una domanda che andrebbe fatta a loro sinceramente sì ma poi come dici te avendo giocatori alcuni giocatori possono fare sia l'esterno sia il centro avanti uno dice vabbè se ho sia abili e arruolabili Milik e Vlaovic ho comunque Nico Gonzalez in cui in quel posto lì ho anche UEA e ho preso anche Consei Sao quindi fondamentalmente se me l'ho sposto all'occorrenza sono coperto comunque di Lascio Ildiz se voglio ho anche Bangula se voglio Cambiaso che mi fa tutte e due le fasce quindi volendo se c'era Milik cambiava molto cambiava molto ma su Nico Gonzalez che abbiamo visto aver avuto un sacco di problemi fisici anche nelle avventure precedenti a quella della Juventus soprattutto alla Fiorentina era un giocatore che su cui te facevi tanto fai tanto affidamento? Vedendo l'investimento per forza per forza quasi 40 milioni se è battuto dove deve andare per occhio a Consensao perché sembra che abbia quel piglio differente un giocatore di livello superiore vero che probabilmente come spacca partita il famoso spacca partita può essere ancora più incisivo però ad esempio contro il Cagliari ha fatto quello che voleva per 90 minuti lo stesso dal primo all'ultimo ecco però evidentemente Nico anche seguendo il discorso della sua multifunzionalità alla destra alla sinistra attaccante è legittimamente un giocatore su cui fare affidamento anche perché mi pare arrivi da una stagione con quasi una ventina di gol alla Fiorentina nonostante tutto che ancora probabilmente non ha dato il meglio alla Juventus un bel gol contro il PSV indubbiamente però sembra molto un giocatore che se è nella giornata giusta anche lui è ingiocabile se non è nella giornata giusta non ha quella continuità tale da dire ok lui è veramente un'ala perfetta per la Juventus a differenza di ciò che secondo me rischia di essere Consensão Consensão secondo te lo riscattiamo ma più che riscattarlo devi essere fortunato fortunato no però devi subito mandare avanti dei colloqui anche importanti con Mendes cercando di convincerlo e lavorando prima su cifre da poi proporre a lui perché il discorso qui lo giochi con il giocatore il procuratore non lo giochi col porto che gli basta presentare 30 milioni e sei a posto il mio problema la mia paura è che se questo qui fa una stagione sulla falsa riga delle ultime due o tre partite chi ti dice che non si presenterà magari non lo so una squadra di premier a dirti quanto ti dà la Juve 4 milioni te ne do 8 vieni ah sì lì diventa diventa difficile perché se fa veramente questo step come mi auguro perché ce l'auguriamo tutti che continui ad andare sulla falsa riga delle prime giornate ma diventerebbe come dici te un problema se si mette di mezzo un top club europeo che sia di Premier che sia un Real Madrid che ne so ora te ne dico uno a caso Real Madrid probabilmente è letteralmente l'unica che non ha bisogno che non ha bisogno tra Rodrigo Vinicius occhio ad esempio anche a Liverpool che mi pare sarà l'ultimo anno di Salah di Salah ah sì ah sì davvero e lì come dici te il porto non è un muro invalidabile 30 milioni esatto c'è la clausola non è che e via quindi lavori su quello però devi lavorare bene giocare d'anticipo col procuratore e col giocatore poi per carità è vero che lui si è rimpuntato per venire alla Juventus mi pare si stia trovando abbastanza bene è iconica anche l'esultanza di Lipsia dove corre verso Tiago Motta tutta la squadra al suo seguito che Macaboz viene Polino anche mi sa che senza tra poco mi sa che per qualche istante l'ha fatto non c'era e però è purtroppo quello lì il problema poi immagino anche che durante i colloqui per farlo venire alla Juventus abbiano intavolato una serie di discorsi per carità poi c'è l'imprevisto che può essere l'altro club è vero è vero è vero è vero è consensato consensato ricorda un po' nelle movenze non voglio fare un paragone no non lo faccio perché l'ultima volta è stato fatto un paragone tra un giocatore della Juve e quel giocatore ha finito di stupire ha finito di stupire quindi me la tengo per mettere la dio off camera perché se no non voglio essere io l'artefice di qualche altra sfortuna visto che già alla Juventus ne stanno capitando di ogni proprio sul punto di vista infortuni squalifie non ci sono e quant'altro Kino io ti ringrazio per la chiacchierata ragazzi iscrivetevi al canale Gobo Toscano è l'angolo di Kinoshi mi raccomando se ancora non l'avete fatto lasciate un bel mi piace che fa sempre comodo un paio di commenti sotto eh dai condividete fate tutto quello che c'è da fare attivate le campanelline grazie ancora Kino e ciao a tutti grazie a te alla prossima ciao